Amici di Moto Sapiens Road ci troviamo a Scandiano e per la precisione siamo lo studio N. Come potete vedere sono in compagnia di Enea ed è incredibile, tutto questo è incredibile. Ma perché ci troviamo qua oggi? Non lo so, non lo so neanche io, non volevo essere qua. Oggi ci sarà una grande novità per tutti voi appassionati di Moto Sapiens Road, non ci crederete, ma presto ci sarà qualcosa di molto interessante. La maglietta del Moto Sapiens Road 125 gradi è incredibile